Beh, dopo vari messaggi dati anche alla mia trasmissione Fidati di me, proprio su come avvicinarsi e come essere amici di questo splendido animale dell'orso, siamo stati proprio chiamati qui a Villalago a presenziare in questa bellissima manifestazione che dura da tre giorni, il mio vicino è un orso. Grazie anche alla bontà soprattutto del popolo di Villalago, al sindaco, al primo cittadino, Fernando Gatta, insomma si sta creando questo connubio tra l'uomo e questo splendido animale, ecco una serata bellissima dove ci sono state tantissime manifestazioni positive verso l'orso e soprattutto tutto ciò che ha regalato, soprattutto agli abitanti di Villalago, una splendida mostra fotografica e un cortometraggio che parla appunto di quei giorni in cui l'orso qui a Villalago, la mamma marena con i suoi cuccioli, insomma è diventata famosa in tutto il mondo. Sono orgoglioso di stare nel paese degli orsi per eccellenza perché in Abruzzo non c'è nessun altro paese che ha un rapporto così simbiotico con questo esemplare così meraviglioso che non viene vissuto come un ospite, come un intruso, come un estraneo ma come uno di loro e devo dire che questa splendida manifestazione ha consentito di soddisfare tutte le curiosità di come gli abitanti di Villalago convivono con questo essere meraviglioso sul quale lo stesso Ernest Hemingway aveva visto un barlume di sentimento umano, come non condividere una posizione così? Siamo a Villalago in un'occasione importante. Villalago nel 2020 ha vissuto una bellissima stagione estiva proprio alla ripresa del lockdown quando ci è venuta a fare visita mamma marena con i quattro cuccioli. È stato un momento straordinario per il nostro paese che ci ha consentito una grossa pubblicità anche a livello nazionale. L'occasione di oggi è presentare un bellissimo documentario, un cortometraggio che uno dei giovani, uno dei ragazzi che ha frequentato Villalago in quel periodo ha voluto realizzare proprio qui a Villalago e quindi poi far conoscere le bellezze del nostro paese un po' al mondo intero. Un cortometraggio molto promosso, molto premiato che non fa altro che migliorare la nostra visibilità di cui noi siamo fieri e speriamo che questo serva a far crescere le nostre potenzialità turistiche.